bello a tutti ragazzi shogari benvenuti in kiwi benvenuti e bentornati ragazzi oggi come potete vedere qua da questo da questo spettacolo qua qua dietro mi trovo ragazzi a idromania e tra poco vi faccio vedere tutti gli scivoli tramite questa gopro quindi ragazzi iscrivetevi al canale ragazzi iscrivetevi ora al canale attivate la campanella mettete la commenta va tutto che potete fare sempre che me vi porto ragazzi sopra gli scivoli ragazzi noi ci vediamo tra poco ma me vado a piare il caffettino che vi faccio vedere e poi andiamo sui scivoli ragazzi taglieci taglie e questo ragazzi è il toboga non ricordo se si chiama così però vabbè ragazzi questo è un altro scivolo bello figo che c'era un sacco di file infatti se vedete quelli gialli arancioni sono quelli che avete visto prima e io ora andrò a fare questo azzurro che fa tutto sto giro così sto turbine così pronti partenza via e Ho 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 abbracciami abbracciami andiamo sotto acqua e questa invece ragazzi è la piscina olimpionica che sto provando a fare qualche nuotata se ancora mi ricordo come si fa ma si la sto a fare questa piscina olimpionica la grandezza è esagerata è proprio di una piscina olimpionica ovviamente è bella lunga è bella profonda e sono andato dall'infondo fino a qua sono andato a nuoto e raga è bella bella mi piace mi piace e niente raga come avete visto ho fatto un po' di scivoli i gommoni vado a mangiare mi mangio pizza e niente raga pausa pranzo e poi dopo vi faccio vedere gli altri scivoli vi faccio vedere ragazzi tutto rincoglionito ragazzi se vediamo tra poco se vediamo dopo ciò cani e niente ragazzi ci fermiamo un attimo perché dopo tutti questi scivoli che avete visto me sto un po' a rilassare ho mangiato raga quindi ragazzi scrivete qua sotto nei commenti se anche voi siete stati a hidromania e quale scivolo vi è piaciuto di più e qualche altro parco acquatico dalla zona di Roma mi consigliate di andare perché i prossimi parchi vedrò di farmeli tutti e ve li porto nelle prossime puntate ragazzi quindi ragazzi scrivete qua sotto nei commenti quale scivolo vi piace di più tra tutti quelli di hidromania se ci siete stati e se ancora non ci siete stati ragazzi venite qua a hidromania ragazzi che ti diverti ti diverti dopo che ti fai i scivoli ti fermi poi io mi sono messo qua sul prato che ci stanno pure gli ombrelloni ho mangiato ma mi sto un po' a rilassare e nel prossimo scivolo che faccio gli è sbratto tutto dentro ragazzi faccio il casino quindi ragazzi ora vado a fare altri mi mancano qualche altro mi mancano altri due o tre scivoli che vedete tra poco ragazzi avete visto i primi scivoli ora mi vado a fare i gommoni non so se da qua si vedono sono qua tipo dei gommoni giganti che ora andrete a vedere sempre con la gopro che si sta un po' ad appannare quindi ragazzi se vedete un po' offuscato perché c'è un po' di condensa la gopro non so perché forse perché è una cinesata e vabbè ragazzi quindi ora mi vado a fare gli altri gommoni che stanno da ste parti questo invece è il nostro hamburger il nostro hot dog l'hot dog ragazzi che anche lui vi dice di iscrivervi al canale noi ragazzi ci vediamo che andiamo sopra il gommone vi faccio salire sul gommone ragazzi guardate quanta fila sta ragazzi un consiglio se venite qua vi fate i scivoli fate tutta la macchina che non c'è stata tutta sta fila zi pomeriggio non si può fare troppa fila c'è sta ragazzi guardate quanta fila c'è sta tutta questa da qua da far giro perché poi si sale sopra e poi si scende ragazzi fate la mattina i scivoli al pomeriggio fate la mattina fate i scivoli più grossi ragazzi cioè ragazzi talmente il sole è cosciente che qua le mattonelle ti goci i piedi ti goci ti goci i piedi ragazzi usate i sciabatte ragazzi usate i sciabatte se no ragazzi fate i piedi abbrustoliti noi ci vediamo qua sopra qua ai gommoni oddio oddio ragazzi non vedo più niente paura del buio non vedo più niente ragazzi non vedo più niente ragazzi questo invece ragazzi è il k2 dove purtroppo non ho potuto portare l'action cam sopra perché regole loro sono queste e quindi questi siamo io e mickey che usciamo dalla piscina perché la videocamera ha deciso di bloccasse durante la discesa e vabbè ragazzi siamo divertiti e niente ragazzi ho fatto il k2 quello che sta vedete qua dietro l'unica cosa è che purtroppo non ho potuto portare l'action cam perché non si può portare regole di sto posto quindi ragazzi mi spiace non l'avete potuta vedere avete visto solo la mia discesa se si è vista qualcosa ora ragazzi mi faccio il 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 vai da sopra così fuuu e poi scendi. Guarda ragà vi faccio vedere se vediamo sopra la discesa ragazzi dopo il scivolo io mi sono fermato un attimo in questa piena goga e niente ragazzi un consiglio ragazzi se venite qui a idromania gli scivoli più grossi più fini fatele tutti la mattina fate più scivoli possibili la mattina perché il pomeriggio c'è stata una esagerata come se si moltiplica la gente quindi ragazzi consiglio utilissimo gli scivoli fatti la mattina pomeriggio invece fate i palli come vi faccio vedere un po' in piscina c'è stanno i palli c'è stanno i palli del gruppo e piscina ragazzi questa ragazzi è la piscina con le onde cosa è importante fate lo scarico di responsabilità in maniera che se avete una gopro o se avete dei piercing potete fare dei scivoli se no i piercing me li fanno levare queste sue regole qui ragazzi ora ora vediamo se mi mancano qualche altro scivolo da fare che vi faccio vedere vi faccio vedere proprio ora vediamo è tutto fuscato oh ah 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 Il buco, il buco, il buco E questa ragazzi è la piscina con i due scivoli, anzi i tre scivoli Quindi quello rosso il multipista e quelli azzurri, quelli azzurri sono uguali Quindi ragazzi è molto divertente e niente ragazzi l'unica cosa che fate attenzione Fatevi o scarico di responsabilità, se no GoPro e orecchini, collane e sta roba qua Non si possono portare sopra ai scivoli Ragazzi questa invece vedete è la doccia a fungo Boh non so cos'è la doccia a fungo che se fai così te bagni così Te bagni a inizio così come te pare, se te fa troppo caldo a calura te bagni E ma ragazzi proviamo ad andare invece un po' sott'acqua Andiamo a vedere sott'acqua com'è, sott'acqua e vediamo E niente, sott'acqua e sott'acqua ragazzi Sott'acqua se vede la gente che scende giù e va così niente ragazzi Vabbè ragazzi una bellissima giornata Quindi ragazzi oggi abbiamo finito gli scivoli Tutti gli scivoli li ho fatti con la buon Miki E oggi ragazzi anche Miki ha battuto le sue paure Che ha fatto la treccia e il K2 ragazzi Che sicuramente sono abbastanza pericolose Sono le uniche due giostre dove non posso portare ovviamente Action cam così perché è una regola a loro Vabbè e quindi ragazzi forse avete visto soltanto la mia discesa da queste cose qua Però gli scivoli oggi li abbiamo fatti tutti Vi ho fatto vedere anche la pescina olimpionica E niente ragazzi Qua se venite qua a Idromania mi raccomando Che alle 6 meno 10 chiudono tutte le attrazioni E nuve fanno salire manco se piangete in Aramaico Vedo questo ragazzi oggi Bella giornata un po' meno calda rispetto alle altre volte Menomaglio così un po' più fresca E noi ragazzi Vi saluto e ci vediamo a un prossimo video Che ancora non so quale sarà Ma ci sarà un prossimo video Noi ragazzi ci vediamo a un prossimo video Mi raccomando iscrivetevi al canale E quando venite a Idromania Mi raccomando ragazzi taggatemi nelle vostre storie Ci vediamo a un prossimo video Ciao carini Mi raccomando iscrivetevi al canale